Un caro saluto da Borgotaro in provincia di Parma, da Gianluca Rossi, allora di mercato parleremo nel prossimo video editoriale di Sanchez, ehi amico, all'Inter di Correa al Marsiglia ufficiale di Pavar che raggiungerà comunque l'Inter, di Lukaku che potrebbe raggiungere la Roma, di mercato parliamo un'altra volta, questo è un video dove non mi interessa avere visualizzazioni, è un video reportage, è un video dedicato agli interisti che ahimè hanno una certa età, Borgotaro la patria di Eugenio Bersellini, un grande allenatore dell'Inter che vinse con l'ultima squadra tutta italiana all'Inter 79-80 lo Scudetto, oltre a due Coppe Italia. Oggi qui a Borgotaro c'è stato il Bersellini Day, è stato inaugurato un murales davanti allo stadio Bozzia, c'è una mostra fotografica che resterà aperta e c'è stata una tavola rotonda per ricordare l'Inter che fu. Io ho solo 13-14 anni ma quell'Inter me la ricordo a memoria, Bordon, Baresi Oriali, Pasinato, Mozzini Ocanuti, Bini, Caso, Marini, Altobelli, Beccalossi, Muraro e alcuni di questi sono venuti qui quest'oggi, Eugenio Bersellini non c'è più ma la città di Borgotaro ha voluto onorarlo, ci sono le figliole, Barbara e Laura, è stata una bellissima giornata per respirare a pieni polmoni l'Inter che fu. E chissà se qualche giovane follower di oggi, quelli convinti di sapere tutto, ha voglia di conoscere un po' di storia dell'Inter. Allora se ha voglia di farlo, attenzione, perché adesso in questo reportage parlerò proprio di quello che è stato Eugenio Bersellini per i suoi ex giocatori. Quindi lancio una serie di interventi, credo di averli messi in ordine per ruolo, se non li riconoscete sono comunque Bordon, poi c'è Canuti, poi c'è Mozzini, poi c'è Pasinato, poi c'è Marini e poi c'è Carletto Muraro. Ma c'è anche un altro idolo della mia infanzia che fu lanciato da Bersellini, anche se non ha mai giocato nell'Inter, in questo contributo, il sindaco Marco Osio. Il suo racconto di Bersellini è meraviglioso e quindi lo ascolterete, credo, con piacere. E poi andiamo a chiudere con le due figlie. È giusto che chiudessi con le due figlie dell'Eugenio Bersellini, del sergente di Ferro, che era poi un sergente buono. Laura e Barbara. Il loro ricordo in una parola. Quindi, ripeto, video per intenditori sul canale YouTube Gianluca Rossi. Parta il contributo delle interviste. Ma era più sergente buono o sergente di ferro? No, diciamo che lui sicuramente, quando è venuto a Milano, venendo da una società, Petro Cessa, insomma, arrivò con una corazza nei confronti, aspettandosi dal tifo, qualcosa di pesante. Quindi, con la corazza che aveva, è entrato anche nel nostro cuore, perché devo dire che Bersellini è stato un allenatore che, diciamo, dopo il primo anno ci siamo adattati ai suoi modi di lavorare, di parlare. Devo dire che ho avuto una persona che mi ha aiutato molto a maturare, sia come uomo che come calciatore. Quindi, grande Bersellini e sono contento che le due figlie abbiano organizzato questa giornata, che il ricordo del padre, che dalla sua padre e mamma, che conoscevo, che sono riuscite a farli sorridere dall'altro. Il primo impatto che ho avuto con Bersellini è stato dopo due giorni di allenamenti a San Pellegrino. Mi ricordo che mi sono venute le vesciche, che non mi ero mai venuto con nessun allenatore e mi ricordo che ho detto, mister, ho le vesciche ai piedi, nella speranza che mi dicesse, vabbè, stamattina non fare l'allenamento. E invece la sua risposta è stata, come sono venuti e vanno via. Questa era Bersellini. Ero una persona molto, molto affettuosa, che sembrava invece una persona cattiva. Sergente sembra, no? Sì, invece in campo era una persona che parlava con i giocatori e chiedeva sempre di fare il bravo e non fare cose che non davano bene. E ho tantissimi ricordi, anche perché con lui sono rimasti cinque anni e sono stati cinque anni più belli della mia attività calcistica, anche perché grazie a lui parecchi di noi, meno sei di noi sono riusciti poi ad andare nazionale, il vice campionato del mondo e poi grazie a lui abbiamo vinto uno scudetto, due coppie d'Italia, ma soprattutto abbiamo imparato tanto come calciatori, ma soprattutto come uomini, perché è stata una persona speciale, una persona di grande umanità. Io sono arrivato a Milano, lui era già un anno che era all'Inter, mi ha insegnato un po' come si fa a soffrire, come si fa a giocare a San Siro e quindi è stato un ricordo piacevole perché è stato il mio primo allenatore in Serie A. Ma era più sergente di ferro o sergente buono? Era un sergente buono, però aveva le sue idee in tante cose, sul mangiare, sul bere, però dopo alla fine sapeva che noi a mezzanotte andavamo a mangiare in giro, no? C'era Muzzini che faceva la pasta e lui diceva alla fine, ha detto, lo sapevo, però vuol dire che facevate anche il gruppo e quindi è un sergente buono, dai. Beh che siete un gran gruppo lo si vede dal fatto che dopo tanti anni vi ritrovate ancora qua, insomma. Sì, una volta l'anno, due, dipende, ci troviamo a Milano, quei dieci, dodici che abbiamo vinto il campionato, è bello anche perché poi vengono fuori sempre cose nuove, no? Gli scherzi che faceva Canuti, le battute di Biccalossi, insomma un po' di tutto, dai. Bersellini, se ti dico Bersellini siamo qua per una giornata in suo onore, che cosa ti viene in mente? Sofferenza, fatica, vincere la fatica e ancor di più, mi ricordo quanto costo effettivamente, ma in allenamento era particolarmente troppo e poi durante le partite sempre a sostegno della mia squadra ho corso tanto per tutti i miei compagni. La gente ti vuole bene anche perché tu sei uno di quelli dell'ultima squadra tutta italiana a vincere il campionato perché poi hanno aperto agli stranieri l'Inter 79-80, erate tutti italiani, forse è per questo che c'è questo spirito di corpo anche dopo tantissimi anni che vi rivedete sempre. Probabilmente sì, anche perché tra tanti eravamo in molti a arrivare dal settore giovanile, quindi ci conoscevamo e frequentavamo anche prima, però abbiamo imparato a conoscere tanti allenatori tra i quali Bersellini ci ha cambiato nel senso fisico della cosa più che tecnica perché anche tanti altri allenatori che ho avuto erano bravi sotto l'aspetto tecnico. Devo tutto a Eugenio Bersellini perché una domenica di febbraio mi fece debutare, a una ventina di minuti dalla fine si girò in panchina, mi guardò e disse fagli vedere come si gioca a calcio e penso adesso io non mi ricordo mai le date e la sostituzione fu proprio di Selvagi, campione del mondo insomma nel 1982, mi disse fai vedere come si gioca e da lì insomma nasce Marco Osio il sindaco. Marco Osio il sindaco, sindaco dopo però se sono diventato sindaco sicuramente lo devo esclusivamente a Eugenio Bersellini che mi fece debutare diciassettenne pur non avendo mai fatto un allenamento con lui, si vede che lui in testa aveva questa voglia e desiderio. E a chiusura di questo reportage da Borgotaro, beh le figliole del grande Eugenio Bersellini, Laura e Barbara, a voi chiedo una parola per ricordare papà. integrità sicuramente assolutamente integro proprio dentro e fuori. Barbara? Bontà, bontà ci ha insegnato a essere buoni, a essere buoni. questo era Eugenio Bersellini.